Buon pomeriggio. Bentrovati a questo nuovo incontro per Filosoficamente. Questo pomeriggio tocca a me avere il piacere di presentare la professoressa Alessandra Beccarisi che sarà la redattrice dell'incontro di oggi. Sostituirò, spero legnamente, per poche minuti in realtà il collega Fabio Ciraci che invece gestirà tutto il momento del dibattito successivo alla relazione della professoressa che si presenterà da sola per quel che riguarda la complessità dei temi affrontati e anche la ricchezza delle problematiche. La professoressa Beccarisi rappresenta in due minuti così da non toglierle inutilmente tempo, già Presidente del corso di laurea, è stata fondamentalmente tra le iniziatrici di questa iniziativa, perché filosoficamente se non ricordo male iniziò proprio sotto la sua presidenza, quindi è bene merita anche per questa iniziativa importante che ricordo ormai siamo arrivati al settimo anno. Ed è tra le altre cose anche ambasciatrice scientifica dell'Alexander von Humboldt Stiftung per l'Italia. Le funzioni di questo ruolo sono di promozione e diffusione dello spirito della Fondazione Humboldt in Italia, nonché soprattutto e oggi coincidenza vuole, questo sia un ruolo importante ancora di maggior rilievo, referente per il Dipartimento di Studi Umanistici, delle politiche per la parità di genere di Ateneo, ma soprattutto la professoressa è docente di storia della filosofia medievale presso il nostro posto di laurea e l'insegna studiosa, non solo di Meister Eckhart, ma in genere della filosofia medievale tedesca e non solo. Gli ultimi anni l'hanno poi indirizzata anche, ne posso fare dissimonianza, dalle tesi che ha assegnato in cui ero presente in commissione, verso un interesse spiccato per il pensiero politico medievale, alto medievale in particolare, che insomma mostra la poliedricità dei suoi interessi. Qui chiudo e passo la parola alla professoressa sperando che tutto proceda regolarmente quanto alla condizione internet. Professoressa Beccarisi, a lei la parola. Grazie Fabio per questa bella presentazione, saluto tutte e tutti per essere presenti qui, anche se non vedo nessuno dei partecipanti come sarebbe invece accaduto in un seminario, in una lezione in presenza. Permettetemi prima di cominciare di ringraziare, visto che è stato ricordato dal mio collega precedentemente, i professori Carmine Zocco e Cristina Barbara, con cui appunto filosoficamente ha avuto inizio, è stato un progetto pilota tra il corso di laurea in filosofia e il loro liceo e permettetemi anche di salutare Angela Alfarano, che ho avuto il piacere di incontrare diverse volte nella mia carriera di professoressa universitaria e quindi la ringrazio per essere presente a questi incontri. Come appunto ricordava il collega Fabio Sulpizio, io mi occupo fondamentalmente di storia della filosofia medievale, ma proprio all'interno della filosofia medievale, in particolare del pensiero politico antico e medievale, ho sviluppato un interesse per le cosiddette politiche di genere, proprio perché il periodo medievale, rispetto forse ad altri periodi, è un tempo storico in cui maggiormente si sono cristallizzate, si sono determinati certi stereotipi o certi pregiudizi che accompagnano ancora adesso il nostro modo di vedere il femminile e il maschile. Come mi piace dire più volte, le filosofi e le pensatrici medievali sono escluse almeno due volte, sono escluse come delle pensatrici che hanno pensato nel Medioevo, che è un'epoca considerata per la maggior parte oscura, priva di elementi di originalità, priva di elementi di razionalità, quindi si nega al Medioevo la possibilità di una scelta e di una ozione, di un'operazione razionale, ma sono anche escluse dalla storia della filosofia, dalla storia del pensiero perché donne. La doppia esclusione che colpisce le donne del Medioevo mi ha sempre attirata e mi ha sempre affascinato e quindi nel corso della mia carriera, oltre a dedicarmi ai pensatori domenicani tedeschi del XIII e XIV secolo che costituiscono fondamentalmente il mio ambito di ricerca, ho cominciato a provare un interesse sempre più forte per le questioni di genere, in particolare per le questioni di genere viste nel Medioevo e in generale nelle questioni che hanno a che fare con la metodologia o meglio con le questioni di inclusione e di esclusione da un canone ideale di filosofia delle donne che pensano o delle donne filosofe o delle autrici, poetesse, scrittrici e così via. Ricordo soltanto e poi entrerò nel merito della lezione di oggi, ricordo soltanto che insieme con l'attuale delegata per le politiche di genere di Ateneo, la professoressa Anna Maria Cherubini, abbiamo curato circa cinque anni fa un evento cittadino che è Scarpette Rosse, sicuramente oggi vedrete in giro numerosissime foto di scarpe rosse in alcuni luoghi più significativi dell'Italia, piazze, strade, proprio contro l'idea di violenza di genere e insieme abbiamo creato questo allestimento che tra l'altro ha avuto un discreto riconoscimento, una discreta visibilità. Come ricordava di nuovo Fabio Sulpizio, mi occupo recentemente a livello di politica del Dipartimento di Politiche di Genere, quindi faccio parte di un gruppo di lavoro che sostiene la nostra delegata Anna Maria Cherubini, per portare avanti una incisiva e forte politica e strategia che riguarda la tutela delle minoranze e che combatte con ogni tipo di discriminazione relativa al genere. E arrivo dunque al tema della lezione di oggi, che non è pensata chiaramente più piuttosto come una lezione, ma se vogliamo come un insieme di input che vi vorrei dare a partire da due considerazioni. Come avete visto il titolo del mio intervento di oggi è un titolo in forma dubitativa e quindi necessariamente forse anche un po' provocativa. Esiste ancora la discriminazione di genere. La scelta di una domanda al posto di un'affermazione è dovuta al fatto che nel mondo occidentale sembra che questioni legate alla discriminazione basate sul sesso o sul genere, vedremo dopo la differenza, non sussista più. Le donne infatti possono accedere tranquillamente pubblici uffici, possono almeno teoricamente rivestire ruoli di responsabilità, possono diventare, potrebbero diventare anche se ancora non lo diventano, presidente di consiglio o presidente della Repubblica, vedremo poi dopo la questione dei nomi al femminile. Hanno diritto di voto, cosa che in Italia è stata permessa soltanto dopo la seconda guerra mondiale, come è noto. Hanno accesso a tutti i gradi di istruzione e anche questo in fondo è un anno novità relativamente recente, se si pensa che la prima laureata donna tra l'altro in filosofia risale circa al 500, quindi vedete si tratta in ogni caso di conquiste relativamente recenti della donna, conquiste che però noi, noi eredi di queste grandi eroine del passato godiamo ancora adesso, quindi sembrerebbe che una questione di discriminazione non abbia più ragione di essere. Eppure non è così. Non so se avrete avuto modo di vedere le dispense o comunque il materiale che attraverso il professore Ciraci abbiamo messo a disposizione sia di studenti studentesse che di professori e professoresse, è proprio in questi giorni, in questi mesi, in discussione in Parlamento, una proposta di legge per allargare alle questioni di genere alcuni reati contro l'uguaglianza. Cioè la nostra Costituzione già assicura un'uguaglianza indipendentemente dalla religione, dall'etnia, dalla provenienza, ma c'è ancora evidentemente molto da fare relativamente invece al genere di appartenenza. In particolare la proposta di legge che mira a punire condotte discriminatorie e di istigazione alla discriminazione per condotte violente o di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Quindi in discussione è appunto il tema della lezione di oggi. Cioè si cerca di capire, o meglio si dovrà decidere, se tutto ciò che rientra nell'ambito della sfera sessuale, quindi legato alla differenziazione sessuale, poi vedremo anche la differenziazione di genere, sia in qualche modo punibile nel caso in cui si verifichino delle condotte discriminatorie o delle condotte violente. Come forse avrete avuto modo di seguire anche in televisione, non è un dibattito semplice perché, e adesso lo cercheremo di vedere, entrano in questo dibattito tutta una serie di considerazioni che non sono assolutamente ovvie ed sono delle considerazioni che potremmo semplificare nei termini del rapporto tra ciò che è naturale e ciò che è culturale. Cioè ciò che è un dato che viene dalla natura è ciò che invece è un dato che viene dalla cultura e la cultura, come sappiamo, è sempre un dato relativo al mutamento storico. Ciò che si permetteva anche soltanto 20 anni fa, pensiamo per esempio alla definizione di delitto passionale o delitto d'onore, quando per esempio un marito violento ammazzava o usava violenza contro la moglie, adesso questa dicitura non può più essere utilizzata. Quindi ciò che 20 anni fa era permesso, adesso per mutate condizioni culturali, sociali, forse anche economiche, non è più permesso. Quindi come vedete i termini in gioco sono tanti. Innanzitutto il primo termine, o meglio il primo elemento da tenere in considerazione è la differenza tra sesso e genere, perché le due cose non coincidono. Il secondo elemento da considerare è quanto nella determinazione del sesso e quanto nella determinazione del genere gioca un elemento naturale o culturale. Terzo elemento, forse ancora più importante, che ruolo ha la società e quindi quando dico società chiamo in causa tutti noi, noi compresi, me compresa che sto facendo questa lezione, il peso che questa società ha nel determinare ciò che è naturale e ciò che è culturale. Come sempre in filosofia il nostro percorso parte da lontano. Come forse avete visto dalle dispense, per iniziare o per capire qual è il tema in gioco vorrei partire da un passo, tra l'altro un passo molto poco commentato della Repubblica di Platone, spesso poco conosciuto, un testo che avrete già avuto modo sicuramente di affrontare e di commentare, e in particolare è un passo che proviene dal quinto libro della Repubblica e del momento in cui Socrate sta immaginando la città ideale, cioè sta immaginando un nuovo stato, un nuovo mondo in cui finalmente viga la vera giustizia, non la giustizia apparente ma la vera giustizia. Socrate porta avanti diverse proposte di miglioramento, sono in particolare tre proposte e sono tre proposte che secondo Socrate sono delle proposte rivoluzionarie. Socrate è molto consapevole che sta per offrire materiale di discussione, e profondamente consapevole del fatto che ciò che sta per proporre è del tutto nuovo. Ebbene, una di queste proposte e del motivo per cui ho scelto questo passo riguarda appunto l'uguaglianza tra uomini e donne. Però attenzione, l'uguaglianza di cui parla Socrate non è un'uguaglianza di natura, è ovvio che uomini e donne sono differenti, ma un'uguaglianza di capacità, ovvero secondo Socrate uomini e donne devono accedere alla stessa maniera e con la stessa responsabilità ai ruoli che sono principali nello stato ideale platonico, ovvero la difesa dello stato e il governo dello stato. Ora, io non voglio assolutamente sostenere che Platone sia un femminista. Non lo si può sostenere perché, per ragioni storiche, il femminismo è un fenomeno storicamente determinato che nasce praticamente negli ultimi due secoli, quindi non si può definire assolutamente un femminista, ma ciò che interessa qui, secondo me, del discorso platonico è il modo in cui argomenta questa uguaglianza di capacità tra uomini e donne. e fa un esempio, un esempio che trovo bellissimo e che vorrei rileggere insieme a voi. Socrate si rivolge ai suoi interlocutori e chiede, secondo voi una persona calva è portata più di una persona con i capelli a essere un medico? La risposta è chiaramente no. A nessuno verrebbe in mente di pensare che essere calvo significa essere più capace nel fare un determinato mestiere. E Socrate ne consegue. E allora, perché noi diciamo che un uomo è più portato alla guerra, è più portato al governo perché feconda, mentre una donna non può difendere lo Stato, non può governare perché partorisce? In altre parole, la domanda di Socrate è molto sottile ed offre elementi di discussione anche oggi. In altre parole, la differenza sessuale, fonda anche una differenza di capacità. Una donna per il fatto di poter partorire è per questo più o meno capace di fare qualcosa? E alla stessa maniera un uomo per il fatto di poter fecondare una donna è più o meno capace di svolgere una determinata funzione? E' chiaro che seguendo il ragionamento di Socrate gli interlocutori sono in qualche modo costretti a rispondere, a dare ragione a Socrate che no, la differenza sessuale non fonda, non giustifica una differenza di capacità. E quindi, conclude Platone, sia donne che uomini allo stesso livello e alla pari devono e possono svolgere la stessa identica funzione. Quindi, le donne possono governare e possono difendere lo Stato alla pari degli uomini. Proprio perché, e questo è un punto che vorrei sottolineare, proprio perché, secondo Platone, la differenza sessuale è un dato sì naturale che però non ha nessunissima influenza su quella che lui chiama la funzione propria dell'anima, un'espressione che noi potremmo in qualche modo attualizzare con il termine talento. E quindi per Platone ciò che fa la differenza tra gli uomini e le donne che c'è non è il fatto di appartenere ad un determinato genere biologico, partorire per la donna, fecondare per l'uomo, ma piuttosto a una differenza di talenti. Non tutti e tutte possono fare le stesse cose. Non tutti e tutte possono essere calzolai o calzolaie, non tutti e tutte possono essere architetti e architette, ma tutti e tutte allo stesso identico modo possono svolgere la funzione che affine al loro talento. Quindi vedete bene che qui si instaura immediatamente una differenza che adesso vedremo sviluppata o che adesso svilupperemo tra ciò che è l'appartenenza sessuale in cui inevitabilmente ognuno di noi si trova a nascere. Naturalmente ci sono anche casi di ermofrodisismo, però quella è un'altra questione. Ognuno di noi nasce con un sesso, o è maschio o è femmina. Ma dice Platone, l'essere maschio o femmina non significa essere orientati fin dall'inizio verso una funzione piuttosto che un'altra. Detto in altri termini, non c'è nulla che una donna, se è capace, non possa fare. Ora, l'opzione platonica in realtà come immaginate, come potete immaginare, non è un'opzione che nella storia del pensiero, della cultura ed anche della filosofia ha avuto particolarmente successo. Basti pensare, e questo è il secondo autore che volevo discutere con voi, il secondo filosofo di cui vi volevo parlare, non è un caso infatti che Aristotele, forse l'allievo più famoso di Platone, riprendendo le proposte rivoluzionarie che Platone per bocca di Socrate aveva lanciato nella Repubblica, fa un clamoroso, se vogliamo, ma un deciso passo indietro. Aristotele più di una volta, in particolare nella politica che adesso leggerò, afferma che le proposte di Platone sì, sono interessanti, ma dice del tutto contro natura. Usa proprio questo termine nella politica contro natura, cioè affermare che uomini e donne pur nelle differenze sessuali possono svolgere la stessa funzione, se capaci naturalmente, questo bisogna sempre tenerlo presente, e affermare, dice Aristotele, qualcosa di contro natura. È evidente che Aristotele parte da un'idea di natura molto diversa da quella che considerava Platone. Per Aristotele il dato di natura è un dato forte, è un dato talmente forte che ha influenza anche su ciò che una donna e un uomo può svolgere all'interno di una società. In particolare nella politica Aristotele inserisce il rapporto tra i sessi, cioè il rapporto tra uomo e donna, in un ambito molto più ampio che, come fa sempre Aristotele nella sua filosofia, trae dal mondo animale. conoscerete sicuramente la definizione di uomo secondo Aristotele qual è? Quella di essere animale razionale, oppure come dice ancora nella politica, di essere zoon politikon, cioè animale politico, animale sociale. È però un animale e siccome nel regno animale si distingue un sesso femminile e un sesso maschile, questa differenza è anche altrettanto determinante per quella specie particolare del regno animale che è l'essere umano. Anche l'essere umano si divide in sessi, il sesso femminile e il sesso maschile. Bene, ma che cosa osserviamo noi in natura? Noi in natura, per esempio, questo lo dice Aristotele molto chiaramente, osserviamo che le femmine degli animali nella maggior parte dei casi sono più deboli fisicamente, mentre l'uomo è portato invece ad una maggiore aggressività, ad una maggiore attitudine allo scontro, mentre la femmina proprio perché partorisce ha una maggiore tendenza alla cura della prole. Bene, Aristotele deriva da questa osservazione che per lui è un dato di fatto, un dato di fatto che gli mette davanti gli occhi e la natura deduce anche delle capacità che determinano l'essere donna e l'essere uomo altrettanto naturalmente. Quindi che cosa significa? Che la donna per natura è più debole, la donna per natura essendo umida e fredda ha una capacità razionale inferiore a quella dell'uomo, del maschio e siccome ha una razionalità inferiore meno potente meno nobile di quella maschile allora la donna per natura deve obbedire ad un'istanza a lei superiore che guarda caso è quella maschile. Tant'è vero che Aristotele arriverà a dire che la donna la femmina ripeto per Aristotele distingue non è un problema la donna è una femmina è una femmina come tutte le femmine del regno animale ebbene la femmina e dunque la donna che cos'è? È un maschio mancato perché è in una condizione di privazione rispetto all'elemento maschile e quindi essendo inferiore fisicamente intellettualmente ha bisogno di un elemento più forte che la guidi e la determini ora vedete bene che Aristotele basandosi sempre sullo stesso dato di natura da cui era partito Platone di fatto fonda delle categorie sociali con cui noi abbiamo a che fare ancora adesso perché credo che sia sotto gli occhi di tutti che tra la linea platonica e la linea aristotelica scusate la semplificazione quella che abbia vinto nel corso della storia sia inequivocabilmente quella aristotelica che possiamo riassumere così donne e uomini hanno compiti differenti perché sono biologicamente differenti e quindi hanno capacità differenti allora possiamo dire che mentre per Platone è il talento individuale che è fondamentale per decidere la funzione di ciascuno all'interno dello Stato per Aristotele è il dato di natura ed è un il dato di natura è qualcosa da cui né uomini né donne possono in qualche modo liberarsi noi siamo il nostro sesso ora attenzione perché questo questo dato di natura questo fantomatico dato di natura è in qualche modo subdolo e pericoloso perché perché anche se noi adesso ci troviamo in un periodo storico in cui di fatto le donne hanno accesso esattamente come gli uomini al voto all'istruzione a un certo tipo di lavoro di fatto però sussiste quello che fa parte del titolo da cui parte la mia lezione di oggi cioè la donna in quanto appartenente a un genere particolare è discriminata e adesso vedremo perché perché l'idea che inaugura Aristotele che in realtà di fatto era figlia del suo tempo è che tra le azioni che le donne facevano meno bene non ci sono soltanto lavori legati alla forza fisica che in qualche modo si potrebbe anche ma non sempre comprendere ma anche lavori che noi chiameremmo intellettuali proprio perché si riteneva che la donna fosse costituzionalmente più dell'uomo soggetto alle passioni quindi con una minore capacità razionale proprio perché governata dal suo essere femminile che per una serie di ragioni che Aristotele in qualche modo spiega anche è soggetta più dell'uomo al turbinio al vento delle emozioni ora basti pensare che la parola isteria questo già lo conoscete però mi preme ricordarlo basti pensare che la parola isteria è l'aggettivo isterico o più facilmente isterica viene da isteroso ovvero utero in greco quindi ciò che qualifica un'alterazione delle capacità intellettuali di un individuo viene ricollegata ad un elemento biologico femminile quindi possiamo dire che la biologia condanna ha sempre condannato la donna a essere considerata inferiore all'uomo non soltanto dal punto di vista fisico un maschio mancato direbbe Aristotele ma anche e soprattutto intellettuale questa ripeto è una conclusione che Aristotele dimostra partendo dal dato di natura la donna e uomo come femmina e maschio sono diversi e in quanto diversi perché questo è ovvio nessuno lo mette in dubbio sono anche differentemente capaci ma questo in realtà credo sia meno ovvio e meno come dire lampante meno dato oggettivo ora le conseguenze di queste considerazioni sono note le donne proprio per la loro supposta inferiorità culturale sono state per secoli escluse da forme di istruzione avanzata non potevano frequentare l'università gli è stato impedito non soltanto di iscriversi all'università ma anche di dedicarsi a studi considerati inadatti alla razionalità debole la matematica per esempio la fisica la metafisica sono state escluse per lungo tempo dai pubblici uffici dalle cariche pubbliche gli è stato impedito di arrivare a posizioni apicali e anche per questo è stato loro negato il diritto di voto tutto questo attenzione questa esclusione questa discriminazione delle donne si è basata sempre e continua in qualche modo a basarsi ancora su un presunto dato di natura ovvero che la donna a differenza dell'uomo procrea un elemento biologico quindi si è usato l'elemento biologico per costruire una presunta capacità o incapacità di fare o non fare delle cose ora se prestate bene attenzione vedrete che il destino delle donne adesso si parla non soltanto delle donne ma si includono si include in questa discussione anche altri generi legati alla differenziazione sessuale in ogni caso il destino delle donne è molto simile ad altre categorie di persone che per il colore della loro pelle per la religione per la loro cultura sono state considerate inferiori e quindi ghettizzate escluse sottomesse esseri su cui è scusabile se non lecito esercitare violenza ricordo qui un aforisma del pur grande filosofo Nietzsche se vai da una donna ricorda di portare lo scudiscio e fino agli anni 80 la giurisdizione italiana come ricordavo all'inizio prevedeva il delitto d'onore o delitto passionale quello che adesso ancora con molta con molta fatica soprattutto da parte delle donne io ho sentito delle delle donne avere qualche come dire resistenza nell'uso di questo termine quello che noi adesso chiamiamo femminicidio ed è quello di cui proprio oggi si discute o meglio ci dichiariamo contro la violenza sulle donne ora come vedete sono tante le questioni in gioco che naturalmente non possono essere risolte tutta qui ma vorrei continuare con il secondo punto e quindi riprendendo un po' la questione da cui eravamo partiti e che è stata messa sul piatto sul tavolo della discussione proprio da Socrate è questa ma è vero che la differenza sessuale determina anche una differenza di capacità è proprio vero che per il fatto di essere io una donna sono per questo per esempio per utilizzare un luogo comune meno capace dell'uomo di occuparmi di matematica di essere una scienziata di essere un direttore di orchestra una direttrice di orchestra e la seconda domanda è che cosa significa essere donne e uomini ora partiamo da un dato oggettivo non esiste una inferiorità naturale ovvero non ci sono categorie di esseri umani naturalmente inferiori rispetto ad altri che era un po' il discorso che portava avanti Aristotele cioè non vi è nessun dato di natura che determina tale inferiorità se si osserva una inferiorità una maggiore o minore capacità tra gli esseri umani questa maggiore o minore capacità non è una inferiorità naturale ma potremmo dire culturale cioè e qui chiamiamo in causa un altro aspetto diverso dalla natura che è la cultura la cultura intesa genericamente come ciò in cui si trova a vivere a nascere un essere umano e che lo determina le sue capacità facciamo un esempio le statistiche sempre di più mettono in evidenza come le bambine e le adolescenti sono mediamente più brave dei loro coetanei maschi se si va a vedere però la percentuale di donne che occupano posti di potere questa percentuale non corrisponde assolutamente alla percentuale di partenza cioè bambine e ragazze sono più brave dei loro colleghi ma quando bisogna scegliere tra un uomo e una donna per un posto di potere è sempre l'uomo che viene in qualche modo individuato è scelto la differenza di salario anche questo è un grande problema a livello mondiale un uomo e una donna che svolgono lo stesso identico tipo di lavoro vengono pagate diversamente e vengono valutate diversamente pur nello stesso pur svolgendo lo stesso lavoro evidentemente questi esempi che le statistiche ci portano ogni giorno davanti indicano una evidente disparità di trattamento basato sul genere di appartenenza e non sulle effettive capacità dell'essere umano ma anche le capacità possono essere influenzate dalla cultura il talento per la matematica per esempio di cui si dice che le donne siano per imperscrutabili motivi pirrivi non è legato tanto al sesso piuttosto alla cultura ovvero la capacità di sviluppare un interesse per la matematica in un contesto in cui viene favorito lo studio della matematica anche da parte delle bambine d'altronde lo abbiamo appena visto l'idea che l'intelletto della donna sia per natura inferiore rispetto a quello dell'uomo è vecchia almeno di due millenni quindi come può una cultura vecchia di millenni che vede nella donna un essere inferiore intellettualmente essere la stessa cultura che aiuta le bambine le ragazze e gli adolescenti a scoprire in sé un talento anche per materie considerate fino a quel momento del tutto al di fuori della loro portata ora quanto di queste considerazioni portano alla violenza il fenomeno naturalmente è molto complesso ma provo a fare una riflessione quando un essere umano cerca di muoversi al di fuori dei ruoli che una società gli ha cucito addosso sulla base di giudizi e considerazioni considerate naturali ma che sono invece esclusivamente culturali quell'essere umano viene immediatamente colpito espulso punito il marito che ammazza moglie e figli perché geloso e possessivo non è in questo modo di vedere violento ma un bravo uomo deluso dal comportamento della moglie o della compagna la donna o la ragazza abusata e violentata non è vittima di un comportamento violento e razionale ma se l'è andata a cercare perché di carattere leggero si tratta dunque di comportamenti che solo ora la giurisdizione sta cercando di normare ma esiste un elemento più forte della legge che è la consuetudine il giudizio tra pari che è importantissimo per esempio tra i ragazzi e le ragazze la cultura generalmente intesa che pesa sulla considerazione di sé e degli altri molto più di quanto una legge possa fare questo perché la vita di ogni giorno di ciascuno di noi non viene condotta seguendo il pensiero critico che invita a distinguere a capire a considerare ma secondo stereotipi o pregiudizi attenzione stereotipi e pregiudizi non sono di per sé negativi o meglio possono essere considerate delle scorciatoie per orientarsi nella vita di tutti i giorni e come tutti i prodotti culturali si possono cambiare adattare al mutamento dei tempi purché si sia consapevoli che quello che si sta utilizzando non è di nuovo un dato di fatto oggettivo naturale ma è appunto un pregiudizio o peggio ancora uno stereotipo vorrei concludere soltanto con due riflessioni proprio sull'importanza il peso che gli stereotipi e i pregiudizi hanno sulla questione della parità di genere innanzitutto bisogna distinguere attentamente soprattutto grazie non soltanto agli studi delle femministe Judith Butler ha scritto tantissimo su questi argomenti sesso e genere non vogliono dire la stessa cosa il sesso è ciò che ripeto lo dicevo all'inizio ciò che ci caratterizza in qualche modo fin dalla nascita e quindi ci inserisce in delle categorie tra virgolette naturali che sono il femminile e il maschile sono delle caratteristiche biologiche che ognuno di noi porta con sé il genere invece è qualcosa di diverso il genere è la costruzione sociale e culturale che si innesta sulle differenze biologiche in altre parole il genere è la definizione rappresenta in qualche modo racchiude in sé la definizione la rappresentazione di comportamenti che una ad un essere umano femminile o un essere umano maschile quindi posso anche nascere con degli attributi sessuali maschili ma sentirmi profondamente donna o viceversa nascere con degli attributi femminili e sentirmi uomo o sentirmi uno dei due se sia il grande dibattito su cui non voglio entrare adesso quello che però è importante capire è che il genere è in qualche modo una costruzione culturale e nel genere rientra tutto ciò che una data società rientiene appropriato per quella categoria facciamo un esempio la donna riprendendo un po' il senso comune quello che ci abbiamo detto la donna è più portata dell'uomo a piangere a emozionarsi è più portata alla cura è più portata diciamo all'attenzione verso gli altri ma quindi è anche più instabile dal punto di vista psichico ed emotivo l'uomo al contrario non piange è un uomo di poche parole è più portato all'aggressività dunque alla difesa all'uscire fuori di casa l'uomo è un cacciatore per definizione può avere un sacco di donne a differenza invece delle compagne tutti questi sono una serie di stereotipi pregiudizi che la società in qualche modo ha costruito nel corso dei secoli e che fanno di una donna l'essere donna e di un uomo l'essere uomo mi piace ricordare qui l'aforisma di Simone de Beauvoir donna non si nasce ma si diventa penso che questo renda molto bene quello che vogliamo dire oggi cioè che il genere in realtà è una costruzione che si ha una visione meglio che si ha di sé e degli altri sulla base di una costruzione che è soprattutto una costruzione culturale e sociale vado verso la conclusione e cerco di rispondere alla domanda iniziale può la differenza sessuale determinare la differenza di capacità la risposta è no ognuno di noi nasce certo diverso dagli altri e dalle altre ma questa differenza dagli altri e dalle altre non è una differenza che si basa sul sesso e l'essere un uomo e una donna non dipende soltanto dal fatto di essere maschio o femmina ma dipende da tutti quegli elementi che una società attribuisce all'essere donna o all'essere uomo per citare forse lo riprenderà Fabio questa cosa non l'ho capita fino in fondo però per citare un'altra grandissima scrittrice filosofa medievale Christine de Pisan una donna intelligente può fare tutto grazie grazie Alessandra Beccarisi per questa bellissima lezione altro che seminario è proprio una lezione vera e propria e quindi ti ringrazio davvero di cuore per questo intervento io subentro all'altro Fabio cioè bella dire a Fabio Sulpizio nell'ultima parte sono molto contento di aver ascoltato questo intervento devo dire che la questione femminile rientra pienamente nel ciclo uomo e civiltà e qui già viene fuori il problema di dire uomo e associarlo subito al maschile associarlo subito al femminile e già di per sé è veramente molto molto complicato io già sto aprendo quindi al dibattito e alle domande che potrebbero venire dalle scuole approfitto perché per dare il tempo ai ragazzi di organizzarsi nelle classroom e per formulare le loro domande e per porre alcune questioni alla nostra relatrice che ha messo alcuni alcuni in evidenza alcuni nuclei tematici fondamentalmente il primo dei quali mi è sembrato essere il concetto di contro natura o conforme a natura che è fondamentale ovviamente nel concetto di natura vi è una questione relativa all'essenzialismo ciò che per essenza è qualcosa quindi di astorico e questo sarebbe un discorso molto lungo quella citazione nicciana è stata utilizzata dai maschilisti che non conoscevano Nietzsche come sa bene la nostra amica comune Cristina Fornari perché quella in realtà del porta la frusta con te era un ricordo di Nietzsche trasposto nello Zeratustra di una fotografia molto celebre dove invece l'usalomè che ha la frusta nei confronti di Nietzsche e di Paul Re però questo lo dico così ci sono delle altre questioni che ha sollevato che sono molto interessanti e spero possano emergere emergano in qualche modo anche delle domande vale a dire la questione delle differenze sessuali prima ancora di quelle di genere la differenza tra natura e cultura noi sappiamo che il binomio maschio femmina è un binomio che si fa che si riconduce molto spesso agli apparati qualcuno ha provato ovviamente anche geneticamente ma la genetica ci aiuta fino a un certo punto cioè ci aiuta soltanto nel dirci quanti cromosomi X e quale cromosoma I Y distingue il maschile da femminile è davvero molto molto poco insomma e c'era una domanda invece che volevo porre io ad Alessandro e mi permetto così do il tempo ai ragazzi di organizzarsi anzi sono in realtà due la prima è la questione dell'ideologia Alessandro ha fatto benissimo a sottolineare questo fattore vado a dire in senso proprio marxiano o gramsciano se mi permettete vado a dire l'idea di costruzioni culturali che giustificano una disparità o delle posizioni di privilegio facendole passare come naturali non lo so le donne che non possono imparare la matematica Dione voglia insomma e la seconda questione invece un po' più delicata un po' più interna al diritto da questo punto di vista sono le cosiddette affirmation action cioè quelle proposizioni del diritto che cercano di porre riparo alla disparità di fatto facciamo l'esempio le quote rosa volevo sapere cosa ne pensasse Alessandra a questo proposito e ne ringraziare nuovamente e le do subito la parola in attesa delle domande grazie io sto vedendo molte domande in realtà sì sì ci sono già molte domande adesso te le passerò subito no perché ci sono 14 domande se vuoi cominciare da lì puoi cominciare Alessandra se le vedi non ho bisogno di leggerle io prego io però le vedo nella parte non pubblicate diciamo in quelle posto allora ti pubblico qualche domanda e potrai rispondere sì ok allora la domanda di Sara del liceo comitricase se gli uomini sono considerati animali seppur specificando e classificando tali come animali sociali perché viene fatto il paragone con il mondo animale e si fa riferimento al sessismo animale se non l'ho capito donne e uomo sono diversi fisicamente ma non intellettualmente se le donne sono state inferiori per secoli e tutto ciò è accaduto solo a casa degli uomini che impedivano sono state inferiori per secoli e tutto ciò è accaduto solo a casa degli uomini che impedivano alle donne di crearsi una cultura ok per quanto riguarda l'elemento biologico è pur vero che l'uomo feconda ma la donna accudisce porta in gherembo e cresce i figli e con ciò voglio dire che se non ci fosse la donna l'uomo non potrebbe però creare la sua dote sarebbe inutile è scientificamente dimostrato che la donna non è inferiore intellettualmente all'uomo per cui perché tutt'oggi si parla di un'inferiorità che sostanzialmente nemmeno esiste come si può abbattere questo stereotipo? come si può abbattere lo stereotipo se ho capito bene nel senso legato all'idea che la donna sia inferiore sull'inferiorità tra uomo e donna della donna rispetto all'uomo allora io provo a capire la domanda che è stata fatta però ci sono due elementi che mi interessano e sono veramente interessanti il primo è questo lei fa riferimento lei dice che l'uomo feconda ma la donna accudisce porta in grembo e cresce i figli attenzione attenzione perché anche il fatto di pensare che una donna per il fatto di portare per nove mesi un essere umano nel proprio grembo la renda naturalmente portata più del padre per esempio all'accudimento dei figli ora attenzione perché questo non è a fortiori un dato naturale non è un dato naturale perché non come dire non è iscritto come elemento osservabile e quindi oggettivo che soltanto la donna sia in grado di accudire e crescere i figli in una coppia un uomo e una donna l'uomo può avere altrettanta responsabilità nella cura dei figli di quanto la possa avere una donna abbiamo tantissimi casi di padri estremamente premurosi estremamente vicini ai loro figli più quanto è più forse di una madre abbiamo figli cresciuti solo da padre quindi anche in questo caso abbiamo uno pseudo dato di natura cioè l'unico dato di natura con cui noi ci confrontiamo è il fatto che effettivamente la donna porta in ghembo per nove mesi la prole e il padre in qualche modo quello che o il maschio ha la capacità di fecondare una donna ma non dice nulla questo elemento naturale sui ruoli che un maschio una femmina un uomo una donna poi hanno all'interno della società cioè è la cultura che sulla base di nuovo di elementi non naturali ripeto non naturali ma culturali ha stabilito che una donna è una donna si accudisce i figli e un uomo è un uomo si va a lavorare questo è un dato di cultura non è un dato di natura per riprendere anche il riferimento a cui faceva che citava prima Fabio come si smonta questo stereotipo ecco proprio questo qui che lei mette in evidenza credo che più di altri è difficilissimo da smontare pensate ai salti mortali che fa una qualsiasi madre di famiglia per andare a lavorare e accudire i figli perché? perché alla donna viene richiesto non solo di lavorare come un uomo ma le viene chiesto quello che la società per millenni ha chiesto a una donna cioè di accudire i figli quindi una donna deve dimostrare di essere pari che è un uomo perché lavora ma contemporaneamente di essere ancora una donna come si è sempre pensato per millenni perché accudisce i figli quindi di fatto abbiamo una donna che lavora e questo anche questo è un dato assolutamente oggettivo che le statistiche hanno misurato la donna lavora il triplo di un uomo lavora fuori casa lavora in casa nei confronti dei figli lavora fuori casa perché cura per esempio i genitori anziani che tipicamente è stato un lavoro sempre attribuito alla fatica delle donne quindi proprio questo stereotipo mi dispiace e credo il più difficile da combattere il più difficile da risolvere e non ho al momento soluzioni se non per renderne coscienza ma pubblicati 38 e io ho come tanti ne hai tanti secondo me potresti anche scegliergli un poco ah bella questa domanda dovrei citare le scuole possibilmente Alessandra se è possibile dire allora parta internazionale liceo capece maglie allora nonostante il femminismo sia stato in tempi recenti sia nato in tempi recenti si può considerare Platone come un pre-decessore di questo movimento e io avrei qualche difficoltà proprio perché poi Platone a un certo momento soprattutto in un'opera successiva che si chiama Le leggi un po' si rimangia quello che ha detto nella Repubblica e poi proprio la considerazione di Platone è completamente lontana dalle rivendicazioni del femminismo quindi io non lo definirei un pre-decessore del femminismo se vogliamo se vogliamo cercare qualche prodromo del femminismo lo possiamo ritrovare paradossalmente nelle monache medievali che facevano dell'attività intellettuale nelle beghine medievali in alcuni fenomeni medievali di di valorizzazione della propria differenza attraverso l'attività intellettuale la prima cosiddetta scrittrice femminista è Christine de Pisano che citavo prima che scrive appunto Una città delle dame avrei qualche difficoltà a definire Platone un femminista però sicuramente ha portato alla discussione del femminile e femminista un elemento che secondo me è fondamentale Ludovico Rizzo non dice da dove viene ha senso che alcune discriminazioni quelle legate a sesso o genere orientamento siano punite più severamente di altri tipi di discriminazione etnia religione e disabilità secondo me non esistono discriminazioni peggiori di altre tutte le discriminazioni dovrebbero essere punite allo stesso modo sono assolutamente d'accordo con te Ludovico sono perfettamente d'accordo la discriminazione in quanto tale siccome si basa sull'idea di un'inferiorità naturale la discriminazione per tanto tempo è stata esercitata legalmente su altri esseri umani pensiamo per esempio al fenomeno dell'apartheid oppure ai ghetti nei confronti degli ebrei sicuramente come dire è un fenomeno storico molto importante Fabio Ciraci il collega Ciraci ha lavorato moltissimo da questo punto di vista sulla dissalmina delle origini del razzismo che rientrano nei fenomeni che stiamo discutendo adesso quindi dal mio punto di vista e su questo le do ragione non c'è motivo di punire la discriminazione basata sul genere e l'orientamento sessuale più severamente di altri tipi di atteggiamenti discriminatori ma vanno puniti vanno puniti attenzione e questa il punire degli atteggiamenti discriminatori basati sul genere non deve essere soltanto relativo a questioni di violenza fisica e anche lì ancora si discute perché i temi che ho toccato oggi sono esempi tratti da titoli dei giornali quindi abbiamo a che fare veramente con la contemporaneità ma anche ad atteggiamenti discriminatori nei riguardi di una donna o per esempio di un uomo sessuale che arrivano al vilipendio anche l'offesa personale anche chiamare qualcuno in un determinato modo è una forma di violenza anche dire ad un uomo non piangere non sei una femminuccia è una forma di discriminazione e di violenza quindi d'accordissimo ma attenzione a saper riconoscere fenomeni discriminatori dove ci sono perché spesso tendiamo a non vederli e su questo i giornalisti possono purtroppo portare numerosi esempi anonimo quindi non posso ringraziare ringraziarla uso in lei così risolviamo il problema di genere la filosofia è una disciplina che insegna a usare la ragione e la ragione non fa distinzione di genere tuttavia nella storia della filosofia non incontriamo donne filosofe e perché ancora oggi le donne filosofe sono ancora in ombra anche questa è una domanda stupenda io ho fatto un corso sulle filosofa nel medioevo e il problema è di nuovo un problema di criterio chi dice cos'è filosofia bisogna stabilire che cosa si intende per filosofia poi bisogna capire che cosa chi può esercitare questa filosofia i manuali sono normalmente fatti da maschi bianchi occidentali quindi evidentemente il criterio di decidere che cosa è filosofia e che cosa non è filosofia risponde fondamentalmente a quella di essere bianco occidentale possibilmente cristiano e uomo naturalmente ed è il motivo per cui nei manuali di filosofia non solo non incontriamo molto facilmente delle donne ma per esempio non troviamo filosofi che vengono da altre religioni che non siano normalmente quella cristiana oppure non incontriamo non lo so produzioni filosofiche che vengono utilizzano altri generi per esempio Dante è un filosofo e un poeta beh io direi che è un grande filosofo però soltanto recentemente ha trovato alloggio nei manuali di filosofia pensiamo per esempio a Banini il nostro Banini solo recentemente è stato incluso nuovamente nei manuali di filosofia ecco una sorte peggiore per questo parlavo all'inizio di doppia esclusione tocca alle donne le donne non sono nei manuali di filosofia non perché non hanno fatto filosofia ma perché quello che hanno fatto quello che hanno prodotto non è stato riconosciuto come un prodotto filosofico ma a tutt'al più come dire storia della cultura storia delle idee una buona poesia magari della letteratura ma non filosofia ma il problema è chi decide che cos'è filosofia e quindi chi decide chi o cosa deve entrare in un manuale di filosofia quindi direi che il problema non è a monte mancanza o meno di donne filosofe ma è a valle chi decide chi deve entrare e chi invece deve uscire ah può spiegare la differenza tra sesso e genere allora lo ripeto il sesso è quello che abbiamo detto all'inizio essere il sesso biologico è il fatto di nascere diciamo con ciò che la natura ci ha dotato quindi un utero per le donne delle ovaie per le donne un pene per i maschi naturalmente con tutte le variazioni che la natura mette a disposizione in questi casi quindi è il dato squisitamente biologico questo è il sesso che tra l'altro non è soltanto binario siccome ci sono molti interventi ti chiederei se puoi trascegliere soprattutto riuscendo a fare scuole diverse sono veramente tanti perché il tuo intervento è stato molto molto bello quindi mi aspettavo un di questo genere dunque invece il genere concludo è ciò che si crede che un diciamo un individuo nato di sesso maschile debba fare quindi cosa fa diventare quell'individuo di sesso maschile un uomo per esempio andare a caccia andare a lavorare non piangere eccetera eccetera allora liceo Comi l'abbiamo già allora liceo De Giorgi no? posso fare una scelta anche di certo in modo da poter rispondere a tutte le scuole anche questa è una bellissima domanda le quote di genere quote rosa sono da anni tema di dibattito tra chi le ritiene giuste e chi sbagliate sono veramente efficace o presentano punti critici? eh questa è una bella domanda è una bella domanda allora diciamo così io personalmente sono contraria alle quote rosa perché? proprio partendo dalle premesse di prima cioè se io devo guardare la capacità di un individuo cioè il saper fare una cosa questo e questa cosa questa capacità non è legata al sesso o al genere allora dovrò scegliere indipendentemente dall'appartenenza ad un sesso ad un genere ma piuttosto alla capacità però è anche vero che la capacità diciamo degli individui degli esseri umani si sviluppa se viene permesso che questa capacità si sviluppi cioè se io permetto alle donne come è stato per gli ebrei come è stato per gli uomini di colore di accedere all'istruzione questi tanto più accederanno all'istruzione tanto più svilupperanno le loro capacità tanto più gli permetterò di arrivare a per esempio posti di potere o di governo tanto più svilupperanno questa capacità cioè tanto più permetterò alle persone di esercitare sviluppare coltivare una determinata capacità tanto più questa diventerà per utilizzare un termine filosofico medievale un habitus cioè una cosa che io so fare cioè la capacità non è che nasce dal nulla la capacità si coltiva no? è anche il frutto il prodotto di un'atmosfera culturale quindi le quota rosa sono in qualche modo il limite diciamo il male minore è un modo per permettere alle donne di accedere a dei posti da cui in qualche modo sarebbero precluse in quanto donne quindi è uno strumento che dovrebbe essere però abbandonato il primo possibile nel momento in cui le donne potranno accedere uno strumento se vogliamo di equità non di uguaglianza cioè di equità di riportare le condizioni di partenza di uguaglianza che non hanno fondamentalmente io mi sono permesso di chiudere le domande perché ce ne sono tantissime quindi credo che possa bastare una carrellata su quelle che ci sono Alessandra ce ne ho tanti io non saprei come scegliere lo so secondo me puoi scegliere per argomenti tranquillamente ce ne sono alcune che riguardano per esempio il ruolo della chiesa e altre che riguardano la paternità ma sulla seconda hai già risposto mi pare posso dire questa cosa un altro anonimo mi dispiace che siate anonimi perché sono belle domande che ho detto che la natura la donna e uomo come femmine e maschio sono diversi in seguito allo stato di natura e che non ci si può sfuggire da esso sì non possiamo sfuggire dal nostro sesso a meno che scientemente non decidiamo di fare un'operazione ma voi sapete che anche un'operazione bisogna passare attraverso tutto uno stato di esami e cose secondo lei è possibile che l'uomo consideri la donna più soggetta al turbirio delle emozioni e per questo motivo l'ostacolo nel ragionamento dell'apice allora io questa domanda questa è una bellissima domanda non è forse possibile che sia l'uomo ad essere una donna mancata e non il contrario io sono convinta che sia l'uomo una donna mancata e vabbè non potrebbe essere diversamente però attenzione non so se qualcuno di voi ha visto la quarta stagione della serie The Crown che adesso va su Netflix che racconta le vicende della monarchia inglese e c'è la prima puntata in cui c'è l'incontro tra Margaret Thatcher e Elisabetta II stiamo parlando di due delle donne più potenti al mondo tra gli anni 70 e 80 cioè un incontro al vertice Elisabetta dice a Margaret Thatcher scommetto che nella sua compagine di governo non ci saranno uomini e Thatcher risponde certo che no ci sono molte donne capaci ma nessuna di queste potrà entrare nel mio governo e Elisabetta sorpresa sta parlando col primo ministro donna della storia d'Inghilterra risponde perché perché le donne sono troppo emotive ed è una donna a sostenere questa diciamo questa posizione che cosa voglio dire il fatto che una donna venga considerata inadatta a svolgere alcuni mestieri perché emotiva è uno degli stereotipi con cui combattiamo ancora adesso ancora adesso e spesso sono le stesse donne a sostenere questa questa idea io non so più le scuole Cesare Vannini visto che l'ho citato Cesare del liceo Vannini le ultime due domande Alessandra le ultime due professoressa volevo chiederle se ancora oggi molti uomini vogliono avere un figlio maschio anziché femmina solo per portare avanti il cognome della famiglia è bellimie io non posso saperle queste cose già che essendo la giornata contro la violenza sulle donne le chiedo l'uomo che uccide la sua amata è riuscito oppure no a sconfiggere il proprio edipo allora io francamente non saprei rispondere se ci sono ancora alcuni uomini che vogliono un figlio maschio per poter portare avanti il cognome della famiglia francamente non lo so non posso rispondere soprattutto in alcune realtà più provinciali più marginali questa cosa c'è se allarghiamo il nostro orizzonte andiamo in India o in società diverse dalla nostra diverse da quella occidentale credo che ancora sussista l'idea di una trasmissione maschile della propria famiglia se l'uomo che uccide la moglie sia in qualche modo un modo di affrontare il complesso di edipo qui è un bel riferimento devo dire è un bel riferimento io però tenderei a non idealizzare in nessun modo questi atteggiamenti un uomo che uccide una donna è un criminale è un violento punto non è qui il caso di capire se in qualche modo c'è una metaforica dietro che è stata ben studiata da Freud è un violento e basta non c'è altro da dire dai l'ultima l'ultima parlotto non lo so posso fare questo anonimo ma giusto perché prende in considerazione un fatto di cronaca nell'ultimo periodo si parla dell'imprenditore genovese che ha abusato di diverse ragazze durante la sua festa com'è possibile che ancora molti al giorno d'oggi diano la colpa alla ragazza e com'è possibile che in Italia spesso questi reati commessi da potenti non vengono adeguatamente puniti e questo è il problema il problema della discriminazione di genere della violenza di genere il fatto che se una ragazza si trova in determinate situazioni la responsabilità non è mai del carnefice ma è sempre della vittima perché se l'è andata a cercare perché questo sia possibile perché io non credo che sia un problema solo italiano ripeto se noi allarghiamo il nostro orizzonte vedremo che in America le cose non stanno meglio c'è un bellissimo film di Jodie Foster uscito negli anni 80 che metteva al centro del film proprio questa situazione una ragazza violentata in un bar che in tribunale ha dovuto difendersi dalla violenza subita ha dovuto convincere i suoi i giudici che era lei la vittima e non semplicemente una provocatrice ecco questo è il classico problema culturale è un classico problema culturale perché evidentemente vigio ancora l'idea che il maschio in quanto maschio abbia il diritto di prevaricare un altro essere e attenzione un altro essere non solo femminile ma un altro essere tra virgolette considerato più debole e quindi siccome noi viviamo in una società in cui vengono dei rapporti di forza colui il soggetto che detiene il potere ha in qualche modo un diritto morale o in qualche modo giustificato di esercitare violenza di esercitare potere su un altro essere sia questo essere femminile quindi una donna sia anche appartenente ad una qualsiasi delle minoranze della nostra società uomo di colore ebreo disabile e quindi ritorniamo alla prima domanda è un problema di nuovo di rapporti di potere ed è attenzione uno stereotipo che ognuno di noi porta dentro ognuno di noi porta dentro quante volte anche di fronte ad un'amica molestata sentiamo dentro di noi in fondo se l'è andata a cercare aveva la minigonna portava i tacchi era troppo truccata quanto il giudizio negativo proviene da noi stessi ed è il motivo per cui queste cose denunciate dall'anonimo continuano a succedere in Italia con la complicità e qui chiudo purtroppo dei giornali perché quando un giornale scrive il marito era un bravo e un bravo uomo ma non ha retto il dolore di essere lasciato e per questo ha ucciso la moglie terribile capite bene che non c'è come dire legge che possa in qualche modo impedire uno stereotipo di questa portata e l'interiorizzazione di questa e qui volevo citare a questo punto Fabio la tua bellissima copertina che hai messo per la giornata di oggi non proteggere tua figlia educa tuo figlio si ricorda sempre alla questione dell'educazione è fondamentale io ringrazio tutti mi dispiace di non aver risposto a tutte le domande chi vuole mi può scrivere e niente Fabio il collega Ciroci sicuramente organizzerà ancora degli incontri su questo tema lo farò con piacere e ti inviterò sicuramente Alessandra per poterti ascoltare ancora io quindi prendo un attimo la parola per chiudere e ti ringrazio davvero molto anche delle risposte perché poi le risposte sono piuttosto complesse da poter dare in così poco tempo e con una complessità insomma discorsiva non indifferente mi scuso come faccio sempre con tutte le scuole ho pubblicato 70 messaggi devo dire che quest'oggi non abbiamo avuto nemmeno la necessità di cancellarne alcuno e quindi mi complimento davvero con queste scuole queste belle scuole che partecipano alle nostre iniziative e per la capacità di saper educare che è un verbo fondamentale quest'oggi i nostri ragazzi mi piace soltanto ricordare un'ultima cosa che ha detta Alessandra che mi sembra fondamentale che le questioni sessuali e le questioni di genere siano fondamentalmente regolate e determinate da questioni di dominio noi ce ne dobbiamo fare capaci se siamo persone di intelletto e se vogliamo utilizzare non tanto l'animale quanto il razionale che c'è in noi e ovviamente esiste una qualche equivalenza funzionale fra tante forme di discriminazione sono tutte terribili però oggi non evitiamo di ricordare quelle relative alle donne e alle violenze delle donne altrimenti passa come al solito anche questo messaggio in cavalleria oggi è una giornata importante anche per questo e devo dire da uomo che reputo veramente degli omuncoli nemmeno degli uomini coloro che pensano di poter abusare utilizzare una qualsiasi forma di violenza anche mentale anche psicologica oltre che fisica nei confronti delle donne e chiudo con questo pensiero soltanto ringraziando la nostra relatrice per fortuna noi abbiamo molte donne in questo parterre di filosoficamente e per fortuna le scuole sono ricche di donne sono piene di donne e sono sicuro che riusciranno di fatto materialmente a cambiare un po' l'orientamento di questa nostra società che è ancora dominata sia dal complesso di Oedipo non superato molte volte e sia da tante questioni legate comunque alla nostra civiltà patriarcale fondamentalmente vi ringrazio molto vi do appuntamento al prossimo incontro vi ricordo che c'era un piccolo errore nel manifesto di filosoficamente l'appuntamento con la collega Dolores Merico compariva il 9 di dicembre che era scritto lunedì in realtà un mercoledì ma trovate tutto aggiornato e comunque l'appuntamento è anche online per qualsiasi informazione potete rivolgervi al sottoscritto o al collega Fabio Sulpizio e la professoressa Beccarisi ha già ribadito la sua disponibilità nel caso in cui qualcuno volesse interpellarla porre delle domande o delle questioni o delle riflessioni attraverso le mail vi ringrazio ancora moltissimo vi saluto tutti grazie a presto grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi